Ci troviamo sul lungomare Garibaldi di Taranto, nella città vecchia, un paesaggio meraviglioso, splendido, una faticenza però strutturale che accompagna lo stesso. La città vecchia di Taranto, il borgo antico, è assolutamente decadente, vediamo i palazzi che letteralmente crollano a pezzi, ma anche le varie strutture sul lungomare, strutture a supporto del passeggio, a supporto soprattutto delle barche che giacciono in un degrado assoluto. Ne parliamo con Ugo Lomartire, già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli ed ex consigliere comunale di Taranto. Sì, questo era un lungomare che era stato realizzato 12 anni fa, era uno splendore e adesso si trova in un totale stato di abbandono, tra l'altro in uno stato anche di pericolo perché, come si può vedere chiaramente dalle immagini, c'è un rischio per le persone che ci passeggiano e per i bambini. Infatti su questa passerella vediamo che mancano delle travi di legno, motivo per cui sarebbe purtroppo possibile che qualcuno inciampi e vada a fondo e cada in mare. Per questo c'è bisogno che l'amministrazione faccia un urgente intervento di messa in sicurezza di questa struttura affinché le persone possano passeggiare in tutta tranquillità. Non è possibile lasciare così questa struttura in questa situazione di degrado, manca la pulizia ma soprattutto c'è un rischio per la sicurezza dei cittadini. Ci sono anche tante situazioni di igiene che lasciano davvero a desiderare cumuli di rifiuti in una zona che dovrebbe essere qualcosa di meraviglioso proprio per l'appeal, per l'attrattiva turistica eppure qui il degrado si accumula e si moltiplica di giorno in giorno, di mese in mese. Infatti non ci vuole nulla organizzare un servizio di pulizia, il problema non è rappresentato dagli operatori ma è rappresentato dalla politica amministrativa che non manda e non organizza un servizio adeguato di pulizia in una delle zone più importanti della città perché il lungomare di via Garibaldi in città vecchia è sicuramente una delle zone più importanti della città di Taranto. D'alto onde lo martire la sua esperienza amministrativa ce lo dice, l'AMIU come azienda municipalizzata, come braccio operativo, alto non è se non una emanazione, una promanazione dell'ente civico, responsabilità in tema di igiene pubblico e dell'AMIU e dell'ente comune. Giustamente l'amministrazione dovrebbe fare una programmazione seria, continua e costante e non interventi straordinari che non servono a nulla, occorre programmare quotidianamente un servizio di pulizia perché le persone che vivono in città vecchia hanno tutto il sacrosanto diritto di vivere in una situazione di pulizia e di igiene. Poi c'è, ritorniamo al grosso discorso, quello relativo al crollo degli immobili, dei palazzi, palazzi addirittura dei quali non si sa la proprietà, se sono privati, se appartengono al comune. Ma, ripeto, proprio qualche giorno dopo Pasqua, e quindi consideriamo tutto il discorso turistico, un palazzo miseramente crolla. Un biglietto da visita terribile per chi si avvicina alla città vecchia di Taranto? Terribile e inoltre rispetto a questo occorre fare un'opera di monitoraggio seria, continua, costante degli edifici in città vecchia affinché non venga mai messa a rischio la sicurezza delle persone che va prima di tutto. E poi c'è anche un discorso di immagine, poiché non si può lasciare nel degrado il cuore della città di Taranto. La città vecchia è e rappresenta il cuore pulsante della città di Taranto. Eccolo Martire, poi tutta questa ricchezza dal punto di vista bellezza, dal punto di vista paesaggistico, e poi è accompagnata anche da una ricchezza dal punto di vista culturale, il patrimonio storico, il patrimonio artistico che si annida, per così dire, tra i vicoli. L'amministrazione non riesce a valorizzare queste risorse, le iniziative culturali sembrano assentisi. Dobbiamo ringraziare qualche operatore privato, operatore culturale privato che fa qualcosa, così come per tutto il discorso relativo agli ipogei. C'è un'amministrazione sorda, muta, dinanzi alle istanze culturali della città vecchia? C'è bisogno infatti di un intervento serio, importante, immediato, che si possano realizzare manifestazioni nel borgo antico e che non venga lasciato in questa situazione di degrado, di abbandono. Taranto è la sua città vecchia, Taranto è veramente bellissima, bisogna solo saperla valorizzare, poi tutto il resto può venire da sé in maniera naturale. Avremmo veramente grandi possibilità di intercettare grandi flussi turistici, ci sarebbe veramente grande possibilità di far lavorare tantissime persone con il turismo, però logicamente bisogna far trovare una città in un buono stato di manutenzione, poiché non bisogna dare una cattiva immagine del nostro comune. Per concludere, lo martire, dagli anni in cui lei ha lasciato il suo impegno amministrativo per la città, per l'ente civico e per la città vecchia, cosa ha notato? Uno stato di palubde, di abbandono, una città, soprattutto dal borgo antico, che è lasciato a sé stesso, così come una barca alla deriva, giusto per usare un'espressione marinaresca. Gli ultimi interventi importanti in città vecchia sono stati fatti 12 anni fa, con la realizzazione di questo lungomare, con la ristrutturazione di Palazzo d'Aquino, di Palazzo degli Ponti, dell'acquisto e dell'inizio della ristrutturazione della caserma Rossarol, con la realizzazione del porticielo turistico, ma subito dopo, per dieci anni, c'è stata una situazione di mancati interventi, ma anche di mancato intervento rispetto all'ordinaria amministrazione. Certe volte anche basta mantenere e manutenere le strutture che sono state realizzate in un buono stato e questo non è difficile, è una cosa molto semplice, occorre buona volontà e occorre amare il nostro territorio. E io mi permetto di aggiungere, programmazione e non improvvisazione, oggi quando si interviene si interviene per così dire a babbo morto per tamponare l'emergenza, altra cosa, ben diversa cosa è la programmazione. Occorre infatti intervenire, occorre una programmazione indistintamente dai colori politici perché a Taranto non bisogna fare distinzioni di colori politici, bisogna rimare tutti nella stessa direzione affinché il nostro territorio venga pienamente recuperato e reso vivibile per i cittadini che hanno tutto il diritto di vivere in una città che non sia in uno stato di degrado e di abbandono. Molte volte occorre poco per creare una situazione di vivibilità, occorre impegno, costanza e capacità. Grazie.